Tannica di benzina contro il ristorante accaduto a Santa Croce di Magliano dove qualcuno ha piazzato un fusto con 25 litri di carburante all'ingresso del locale, danni all'attività ma si lavora a diverse ipotesi. Romano non chiude il dialogo con Di Pietro, il fondatore di Coscienza Civica prende posizione dopo le dichiarazioni dell'ex leader dell'Italia dei Valori, le critiche a frattura arrivano tardi, dice Romano, ma si può discutere. Edilizia scolastica dibattito in consiglio a Campobasso, riunione monotematica a Palazzo San Giorgio, genitori preoccupati per le condizioni di alcuni edifici, tutto sarà svolto in sicurezza, garantisce il sindaco. Incidente in tangenziale, deceduto uno dei feriti, Luca Varanese, non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale dove era ricoverato in rianimazione, ancora in gravi condizioni al Cardarelli, l'altro giovane coinvolto nello scontro. Campobasso e Agnone ancora sul mercato, l'albanese Mario Gurma, classe 82, nuovo attaccante rosso-blu, l'Olimpia mette a segno tre colpi, le molisane ancora a caccia di rinforzi. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolise, lo avete sentito dai titoli di copertina, c'è la cronaca in primo piano con un attentato incendiario avvenuto nella notte a Santa Croce di Magliano. Le ipotesi in campo sono diverse perché qualcuno ha piazzato una tannica di benzina con 25 litri di carburante davanti all'ingresso di una palazzina che è di proprietà di un consigliere comunale, ma evidentemente nel immobile ci sono anche attività commerciali, allora la pista del racket e dell'intimidazione comunque tengono in allerta gli investigatori. Oggi a Santa Croce c'è stata Manuela Iorio. Un boato fortissimo, chi ha pensato una bomba al banco, Matt Kee al terremoto e invece in Piazza Marconi a Santa Croce di Magliano, quando tutti dormivano e in giro non c'era nessuno, qualcuno si è avvicinato al portone dell'edificio di proprietà dell'avvocato Federico Liberatore, che è anche consigliere comunale e ha lasciato una tannica di benzina da 25 litri che poco dopo è stata fatta scoppiare. L'esplosione è stata dirompente e ha svegliato mezzo paese. Subito le fiamme hanno divorato il gazebo e i tavolini del vicino ristorante e il mare in collina, raggiungendo anche l'interno dei locali che si trovano al piano terra dell'edificio. È stato pure forte purtroppo, abito qui vicino, ecco perché. A cosa ha pensato? Avete avuto paura? Io veramente la prima cosa che ho pensato è al terremoto e sono uscito fuori di casa qua, subito subito, che abito a 50 metri da qui. E ha visto subito le fiamme? Abbiamo visto, siamo scappati fuori e poi ovviamente abbiamo visto quelle che abbiamo visto. Erano più o meno alle 5, meno un quarto quando abbiamo sentito questo grande boato. Pensavamo inizialmente fosse un terremoto però poi alla fine affacciandoci ci siamo resi conto che le fiamme alte provenivano dal locale qui. Perlomeno sembrava così, adesso non so bene. Dal balcone di casa mia vedevamo delle fiamme molto alte. L'ebita proprio qui di fronte? Sì, sì, dal balcone vedevo. D'altro canto qui non c'era quasi ancora nessuno. Abbiamo avvertito subito i vigili del fuoco che devo dire sono stati tempestivi come i carabinieri immediatamente. Neanche 5, meno 5 erano già tutti qua. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che proprio a Santa Croce hanno un distaccamento ha scongiurato il peggio. Un episodio inquietante su cui ora indagano i carabinieri di Larino. Diverse le piste seguite. L'unica cosa certa è la matrice intimidatoria dell'attentato e con molta probabilità il vero obiettivo era il ristorante, aperto da qualche mese da persone del posto e frequentato in maniera particolare da cittadini pugliesi. Dunque dietro al gesto potrebbe celarsi una ritorsione o un avvertimento. Ma i carabinieri non escludono nemmeno che qualcuno potesse avercela con Federico Liberatore, proprietario dell'edificio e che a Santa Croce è consigliere comunale con delega i lavori pubblici. Lui è arrivato di corsa da San Salvo dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza con la famiglia. Non si spiega l'attentato, spera che le forze dell'ordine trovino irresponsabili e lo conforta solo il fatto che non dormisse con sua moglie e le sue due bambine al piano di sopra, come solito fare quando si ferma in paese. Fortunatamente lo studio legale e l'appartamento sono agibili, i maggiori danni li ha subiti il ristorante. La politica con le dichiarazioni di Antonio Di Pietro interviene anche il fondatore di coscienza civica Massimo Romano che critica l'ex leader dell'Italia dei Valori per il ritardo con cui è intervenuto sulla scena politica regionale ma non chiude al dialogo. Le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Antonio Di Pietro di fatto hanno sparigliato le carte nella politica molisana e soprattutto nella coalizione di centro-sinistra. Tra consensi qualche dissenso l'ex ministro ha rilanciato l'idea di un centro-sinistra unito con le primarie per scegliere il candidato presidente senza escludere una sua candidatura al vertice della regione. Sulla proposta di Antonio Di Pietro dopo Danilo Leva è intervenuto anche il fondatore di coscienza civica Massimo Romano. Se ne è accorto dopo cinque anni che il governo Frattura ha scontentato tutti e ha creato più problemi di quanti non ne abbia trovati? Mi sembra strano. Mi sembra più probabile che invece, posto che era chiarissimo quello che sarebbe accaduto perché era chiarissima la coalizione di interessi, di rapporti, di persone che si saldavano sulla candidatura di Frattura, era chiarissimo sin da allora, chi l'ha accettata allora l'ha fatto per opportunismo, per mero opportunismo. Sarebbe il minimo che chiedessero scusa per i silenzi e anche per ciò che hanno fatto, cioè per le azioni e per le omissioni. E una volta fatto questo, una volta chiesto scusa all'elettorato, si può esprimere un giudizio sereno sulla loro posizione, altrimenti non è credibile. Appunto, ma una candidatura di Antonio Di Pietro come la vedrebbe Massimo Romano? Guardi, io non ne faccio una questione di carattere personale perché non ho problemi di carattere personale. Però registro, proprio anche con riferimento ad Antonio Di Pietro, il quale ha avuto dei meriti indiscutibili sul piano istituzionale, in particolare quando è stato ministro delle infrastrutture, che negli ultimi almeno cinque anni non gli ho sentito prendere posizione su nessuna delle questioni della politica molisana. Anzi, mi sembra che abbia avallato letteralmente tutto quello che ha fatto il governo Frattura. Oggi mi sembra che prenda, diciamo, posizione diversa rispetto alla sostanza delle questioni. Insomma, viva Dio che ci è arrivato. Se ci fa capire che cosa ne pensa sulle questioni sulle quali in questi anni non ha parlato, perché non valutare quella proposta politica? Mi sembra che la questione non sia di nomi, ma sia di sostanza. Dunque Romano ha criticato l'ex ministro per il suo silenzio, ma non ha chiuso la porta al dialogo. Duro è invece l'affondo sulla preoccupante relazione della DIA e sul silenzio complice della politica molisana. Ci si sta in qualche modo abituando al fatto che nella regione molise si taccia su tutto. Il silenzio sta diventando la regola quasi su tutte le questioni, anche quando sono così cruciali come quella delle infiltrazioni mafiose. Però non basta la retorica per contrastare i fenomeni malavitosi. Occorre che chi ha responsabilità politiche e francamente anche chi ha responsabilità morali, che pure resta in silenzio incredibilmente, facciano ciò che la legge dice loro di fare, impone loro di fare, in particolare apprestando tutte quelle misure per contrastare i fenomeni che poi danno luogo alle infiltrazioni. Le infiltrazioni si concentrano sugli snodi della pubblica amministrazione dove ci sono i soldi e sono settori che sono direttamente collegati appunto agli snodi istituzionali e amministrativi. Ma se la politica lascia sguarniti i ruoli di controllo privandoli di risorse umane, materiali e strumentali, ebbene poi non ci si può stupire che attecchiscano in questi omessi controlli o in queste situazioni di conflitti di interessi tra controllori e controllati, fenomeni anche di infiltrazione. Quindi credo che oltre a parlare sarebbe indispensabile che si agisse per evitare che si arrivi sempre quando c'è già il cadavere. Si è parlato solo di edilizia scolastica nella seduta del Consiglio Comunale di Campobasso, un tema caldissimo in città, il servizio di Anna Maria Di Matteo. A meno di 20 giorni dalla riapertura delle scuole a Campobasso il tema della sicurezza degli edifici scolastici è tornato di attualità. L'argomento è stato affrontato nel corso del Consiglio Comunale monotematico, chiesto da otto consiglieri di opposizione che hanno chiesto al Sindaco Battista di fare il punto della situazione e dare risposte ai tanti genitori che peraltro hanno assistito anche ai lavori consigliari. Il Sindaco Battista ha chiarito che l'impegno dell'amministrazione va nell'unica direzione di garantire la sicurezza degli alunni del personale scolastico. Man mano che arrivano le relazioni dell'unimol ci sono dei riscontri ai quali noi in qualche modo dobbiamo ottemperare e capire bene se gli edifici sono da abbattere ovvero si possono migliorare, ovvero si possono adeguare oppure occorre approfondire in qualche modo alcuni aspetti ed è quello che stiamo facendo. Facciamo il punto, per quanto riguarda la Montini quindi la scuola aprirà regolarmente a settembre? Oggi per i dati in nostro possesso la scuola aprirà regolarmente però ci sono degli approfondimenti che dovremo comunque fare. Voglio ricordare che la scuola primaria oggi lavora all'interno della Casa dello Studente, un edificio assolutamente sicuro ma certamente che non nasce quale scuola. Ecco a proposito della Casa dello Studente, la scuola di Via Grammici, alcune classi dovrebbero essere ospitate lì, ma qual è la situazione al momento? Stiamo verificando proprio dove allocare cinque classi che sono presenti all'interno di Via Grammici, è una situazione che ci è nota da qualche mese però proprio la vastità della crisi ci mette in una condizione di affanno nella ricerca della sistemazione più adeguata ed idonea. Consigliere Pilone, la relazione del sindaco sembra che non vi abbia convinto particolarmente? Non ci ha convinto affatto anche perché stiamo ancora nel periodo dopo tre anni e più di amministrazione battista degli annunci. Si parla di nuove scuole ma non vediamo un solo progetto, si parla di adeguamento, ancora non partono i lavori alla Don Milani, siamo molto molto delusi, noi chiediamo un impegno serio, innanzitutto che ci vengano consegnate subito e immediatamente le relazioni sulla vulnerabilità sismica fatte dall'università. scadevano la consegna il 30 giugno, siamo ad agosto, la fine di agosto ancora non vengono. Lì dove ci sono situazioni emergenziali, cioè bisogna chiudere le scuole, il Comune ha fatto un bando per reperire strutture private, che fine ha fatto questo bando? Le ha fatto riferimento al documento unico di programmazione e in questo caso comunque ha espresso molte perplessità di che cosa si tratta? Ma in realtà noi abbiamo evidenziato che cosa? Sul documento unico di programmazione che è il documento principale non risulta, non ci sono rispondenze rispetto a quello che il Sindaco ha dichiarato sulla contrazione di mutui per l'edilizia scolastica, in particolare ricordo Massone, la scuola di Massone che sapete benissimo è stata chiusa rispetto alla quale sono state date delle rassicurazioni, va detto però che dallo stesso documento che ci ingiamo ad approvare non risulta assolutamente nessun dato che lasci in qualche modo intravedere la contrazione di mutui, quindi non ci sono soldi per il momento sebbene il Sindaco abbia dichiarato il contrario. Vincenzo Benassai, 56 anni di Napoli, il nuovo segretario generale del Comune di Campobasso è stato scelto tra una rosa di 20 candidati, lo ha scelto il Sindaco Battista, sostituisce Franco Colella che dallo scorso giugno ha assunto l'incarico nella segreteria della provincia di Chieti, Benassai è titolare della sede della segreteria convenzionata tra i comuni di Appignano, Montefano e Urbisaglia in provincia di Macerata. Nulla di fatto al Tribunale di Isernia per gli ex dipendenti OTI, sentiamo Enzo Di Gaetano. Colpo di scena nella complessa trattativa per il licenziamento congiunto degli ex dipendenti OTI. Come è noto quella che sembrava essere una via d'uscita era stata proposta ai commissari sia dalla ITR che dalla OTI. Gli ex lavoratori circa una quarantina, retrocessi dalla OTI in capo all'ITR, in mancanza di una situazione da chiarire in sede giudiziaria, avrebbero dovuto essere licenziati da entrambe le aziende in un tavolo conciliatorio presso l'ufficio del lavoro, così da poter usufruire degli ammortizzatori sociali a loro spettanti. Le due aziende, OTI e ITR, in un secondo momento avrebbero stabilito a chi sarebbero toccati i relativi oneri, ma intanto gli ex lavoratori sarebbero andati in naspi. Tutti sembravano d'accordo, la proposta era sensata e avvallata anche dai sindacati. Ma l'unica soluzione possibile che si individua oggi, che consenta di preservare l'interesse di tutti, è quella di fare delle transazioni dove sia OTI che ITR firmano insieme al lavoratore spostando l'erogazione delle competenze al primo grado di giudizio. In questa maniera i lavoratori si possono liberare ed andare in naspi, avranno le loro competenze quando risolveranno il loro contenzioso. Però in sede di trattativa congiunta, ieri al Tribunale di Isernia, la OTI ha fatto saltare il tavolo, sostenendo che non avrebbe firmato il licenziamento congiunto. L'ITR invece aveva confermato la sua volontà di aderire alla proposta formulata dall'avvocato Scurti a nome dei dipendenti. Comunque il no della OTI ha di fatto provocato il fallimento del tavolo congiunto, convocato dal Presidente Di Giacomo in Tribunale, su richiesta dei lavoratori. Questi ultimi quindi restano appesi solo alle speranze, perché di fatto per loro continua il limbo dell'incertezza, senza lavoro e senza stipendio, ma senza che nessuno li licenzi. Intanto si è appreso che la gestione commissariale dell'ITR ha segnalato all'Inpsi e all'ispettorato del lavoro l'anomania della richiesta della OTI, che avrebbe fatto variare lo stato matricolare dei dipendenti, retrocedendoli in carico all'ITR. Secondo quest'ultima, qualcosa che non si poteva fare. Di lavoro si muore il caso di Gheorghe, morto a soli 35 anni per lavoro nero e caporalato, non 100 anni fa ma nella civilissima Italia di 10 anni fa, lo ha detto il Sindaco di Larino e il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo, che ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del bracciante agricolo di origine romena Gheorghe Radu, avvenuta il 29 luglio del 2008 a Nuova Cliternia. Il Tribunale non ha trovato colpevoli, ha detto il Sindaco, ma l'utilizzo di operai immigrati in attività irregolari permane e si estende sotto i nostri occhi. Parliamo ancora di sindacato, il tour della CGL tra gli ospedali del Molise organizzato per informare i cittadini sul riordino sanitario ha fatto tappa al veneziale di Isernia, non siamo contrari a prescindere all'integrazione, hanno affermato gli esponenti del sindacato, ce ne parla in questo servizio Nicola De Santis. La CGL non è contraria all'integrazione tra pubblico e privato, ma biasima l'atteggiamento del Governo regionale, che per il sindacato sta smantellando la sanità pubblica a beneficio dei presidi privati, trasformando così la salute in merce. Per informare i cittadini e gli operatori del settore sull'intera riorganizzazione del sistema, è stato organizzato un presidio davanti all'ospedale veneziale di Isernia, sia distribuendo volantini agli utenti, sia fornendo spiegazioni a tutti coloro che hanno avvertito la necessità di approfondire l'argomento. La sanità per noi è un diritto universale, l'unica maniera per difendere il diritto universale è garantire i livelli di sanità pubblica efficienti. Ribandiamo che non siamo contrari all'integrazione col privato, ma deve essere un'integrazione equilibrata e che non significhi sostituzione o smantellamento dei reparti. In troppe situazioni in Morisi abbiamo assistito invece ad una pratica contraria, c'è una volontà forse politica di svuotare il sistema pubblico, quindi di indebolirlo e di avvantaggiare poi quella che diventa una sanità che tra virgolette dovrebbe passare per sanità di qualità che è quella che viene affidata ai privati. Noi a questo non ci stiamo, il diritto è una delle prerogative che orienta il nostro agire sindacale, quindi pensiamo che dobbiamo essere dalla parte degli utenti, dobbiamo essere dalla parte dei lavoratori che operano in tutte le strutture, in particolare in quelle pubbliche. Il tour della CGL tra gli ospedali del Molise è dunque approdato al Veneziale di Sernia, nosocomio che per il sindacato è stato fortemente depotenziato dalle scelte operate dal governo regionale in ambito sanitario. Paolo De Socio, responsabile regionale del welfare, indica chiaramente le responsabilità politiche per la situazione che si è determinata. Indubbiamente la volontà di determinare le politiche sanitarie avrà qualche nome e qualche cognome oppure qualche gruppo di appartenenza, noi ne siamo convinti. C'è un aggravante per quanto concerne la politica molisana, la manovrina estiva del governo centrale ha di fatto depotenziato quelle che sono le prerogative della struttura regionale, è mancato un dibattito vero su quelle che sono le competenze del Consiglio regionale del Molise e di riflesso è mancata anche quella che doveva necessariamente essere la parte di confronto anche con i sindacati, con i soggetti sociali, ma con gli stessi cittadini utenti. Qua sembra che qualcuno, e in questo caso i cittadini utenti, stia pagando colpe per crimini che non ha commesso. Abbiamo tariffe ticket al massimo, posti letto che si perdono nelle strutture pubbliche, abbiamo anche le liste di attesa che sono diventate intollerabili anche su malattie gravi, su patologie acute, insomma che ci sia la necessità appunto di ripartire con una mobilitazione e noi proviamo a fare questo con un'azione dal basso informando i cittadini, i lavoratori dei utenti. Torniamo alla cronaca, non ce l'ha fatta Luca Varanese, 40 anni di Campobasso, era rimasto coinvolto domenica in uno scontro intangenziale. Vediamo. Le sue condizioni erano migliorate, poi l'imprevedibile, il peggioramento e il decesso. Ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso dove Luca Varanese era ricoverato da domenica sera per lo scontro frontale tra due Y sulla tangenziale ovest di Campobasso. Il cuore del classe 1977 ha smesso improvvisamente di battere come da prassi l'ospedale ha avviato un accertamento interno per ricostruire il decorso del paziente, indaga anche la magistratura che con gli elementi forniti dalla polizia dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente, anche se tutti i dubbi sembrano fugati. Luca guidava la Y nera che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato un'inversione di marcia in una zona proibita dove c'è la linea continua. La manovra avrebbe così causato l'incidente, l'impatto con un'altra Y di colore grigio che procedeva nello stesso senso di marcia con a bordo due ragazzi rimasti gravemente feriti. Il gesto della disperazione di una donna di 40 anni che a Palata si è tolta la vita originaria di Campobasso è molto conosciuta in città. La donna lascia quattro figli all'origine della sua decisione, pare ci fossero dissidi familiari. La diga di Chiauci a secco come l'invaso del Liscione, problemi e acqua a disposizione fino al 27 agosto. Sentiamo. I meteorologi segnalano una nuova ondata di caldo e intanto non piove da tempo. Condizioni, caldo e assenza di precipitazioni che determinano una costante diminuzione del livello di acqua nelle sorgenti e nell'invaso del Liscione, fonte di approvvigionamento idrico per diversi comuni del Basso Molise. È, ai minimi storici, un quadro decisamente da non sottovalutare. Da Molise Acqua e l'invito ancora una volta a utilizzare l'acqua potabile solo per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri impieghi di natura domestica. Parola d'ordine, niente sprechi. Qualora la situazione già al limite dovesse diventare di emergenza. Dal Consorzio di Bonifica Sud Vasto, da cui dipende invece la diga di Chiauci, hanno detto che questo invaso si avvia verso l'esaurimento. È completamente a secco e ha autonomia d'acqua stimata non oltre domenica 27 agosto. Una situazione messa nero su bianco nella lettera inviata ai governatori di Molise e Abruzzo Fratture d'Alfonso e ai prefetti di Chieti e Campobasso. Dallo scorso 28 maggio la diga di Chiauci rilascia mille litri di acqua al secondo per irrigare i campi dei comuni della Vallata del Trigno e per uso potabile e industriale di San Salvo tramite l'Agenzia regionale per le attività produttive. In particolare il Consorzio di Bonifica Sud Vasto ha evidenziato che senza piogge dal 27 agosto l'unica disponibilità idrica sarà il fiume Trigno, comportata stimata in 100 litri al secondo e questo significa che l'acqua sarà solo a disposizione per gli usi potabili civili. Il Consorzio ha annunciato che attingerà i pozzi di soccorso con una capacità reale di circa 80 litri al secondo oggi a supporto di un'area agricola di circa 700 ettari dislocati nei comuni di San Salvo e Montenero di Bisaccia, capacità che, ha spiegato, potrà essere disponibile per il 50% per le esigenze ARAP mentre la quota restante costituirà la riserva minima per alimentare gli impianti consortili nell'area. Tra le manifestazioni estive è diventato ormai un appuntamento fisso, parliamo del trofeo Topolino che si svolge a Bagnoli del Trigno e che evidentemente ha per protagonisti i bambini circa 200 in questa edizione. Vediamo. Successo annunciato a Bagnoli del Trigno per il tradizionale appuntamento del 24 agosto con il trofeo Topolino, organizzato, come ogni anno, dall'infaticabile ideatore della manifestazione, il sindaco Angelo Camele, che nei lontani anni 70 ottenne anche il patrocinio e l'autorizzazione all'uso del nome di Topolino da parte della Walt Disney. 200 bambini, dai 2 agli 11 anni, provenienti da Roma e da ogni angolo del Molise, hanno partecipato la grande festa in loro nome, sgambettando felici sul vialone principale del paese. Questa è la 46esima edizione della festa dei bambini. Abbiamo iniziato il 72 e ogni anno c'è stato un incremento di partecipazione. Quest'anno poi c'è stato un boom di presenze a Bagnoli dei bambini di tutta la regione di Roma e di altre regioni vicine, di oltre 200 bambini che hanno gareggiato per il famoso trofeo Topolino della Walt Disney. Io mi onoro fare questa manifestazione per loro perché in tutti gli altri comuni e negli altri paesi fanno sacre, benvengano, fanno serate con cantanti che costano troppo alla collettività. Io mi dedico ai bambini che con il loro contributo dei genitori, con pochi spiccioletti, facciamo divertire un popolo per l'intera giornata, quasi una settimana, che si preparano per questa manifestazione. Insieme a me ci sono i collaboratori, i volontari, i ragazzi che hanno raggiunto l'età, sono diventati vecchi a 12 anni di età, che non possono più partecipare alla manifestazione e mi aiutano come volontari. Sono circa una trentina di collaboratori come avete potuto rivedere. Questo stimola di più i bambini a crescere anche nello sport. Un appuntamento prima di salutarci stasera a San Giovanni in Galdo, Borgo in Rosa, una serata dedicata alla valorizzazione del talento femminile. Dopo il successo della festa del Morrutto, dalle 19 di stasera, diversi talenti si esibiranno raccogliendo anche fondi per beneficenza. Alle 21.30 invece in piazza per un simbolico lancio dei desideri. È tutto per l'edizione delle 14, vi lascio alle previsioni del tempo, ci vediamo tra circa mezz'ora per gli aggiornamenti. Grazie e a più tardi.